Ciao a tutti, bentornati e benvenuti, io sono Alessia e oggi si parla di libri. Lo facciamo attraverso del Primo Amore di Manuel Sgarella, editor od edizioni, che ringrazio per la copia. Questa è la bellissima copertina, davvero molto molto bella, che si abbina bene alla tipologia di romanzo. È infatti un romance storico, scritto in terza persona, che diciamo è un inno, è un portare alla memoria la storia di Giuditta Pasta. Giuditta Pasta, che è una appassionata e poi una voce che comunque è rimasta tra le migliori per quanto riguarda il bel canto, quindi a livello di soprano, lei mezzo soprano soprano, si racconta infatti, appunto, come dicevo, la sua storia, che sarà la storia di una donna, della sua sofferenza, soprattutto del suo amore impossibile, della sua vita sempre tenuta a freno. Perché ci troviamo comunque negli anni dell'Ottocento, in un'Italia che è sugiocata ancora degli austriaci, un'Italia che vuole riprendersi in mano anche la sua libertà. Questa farà sempre da sfondo alla storia poi vera e propria che è quella di Giuditta, per l'appunto. Conosciamo Giuditta, subito giovane, alla sua prima apparizione in un piccolo teatro, accompagnata dallo zio Filippo, che sarà sempre al suo fianco all'inizio della carriera, e troviamo un giovane Vincenzo, che è arrivato a Milano proprio perché comunque ha sentito parlare di questa voce e vuole sentirla anche lui, vi che inizia diciamo a mettere un po' mano a quella che sarà poi il suo lavoro, che è quello di compositore, e basterà un piccolo sguardo e un fiore, una gerbera rossa, da cui partirà il tutto, partirà l'amore di Vincenzo verso Giuditta, anche senza conoscerla, li rimarrà nel cuore e esprimerà tutto ciò attraverso delle lettere. Le lettere farà arrivare alla stessa Giuditta, che leggerà e rileggerà con ardore, ma alle quali non risponderà mai. Perché? Perché comunque Giuditta è stata costretta dai genitori a sposare Giuseppe, Giuseppe pasta, per questo poi Giuditta pasta, e ovviamente a quel tempo la donna perdeva il cognome, quindi è riconosciuta così, un marito che comunque anche lui è appassionato di bel canto, ma assolutamente senza talento, e quindi questo lo porta ad essere un uomo frustrato, sostanzialmente a spreperare i soldi che la moglie guadagna, e a vivere sempre alle sue spalle, per tutta la durata, e quindi non sarà comunque un marito, non sarà poi un padre, ma sarà solo un uomo che guarderà esclusivamente i suoi interessi. Giuditta però è comunque molto incentrata nella donna dell'epoca, non vuole prendere in mano la sua vita, non vuole essere coraggiosa in questo senso, e quindi subirà il tutto senza mai andare contro quello che è il suo cammino segnato di vita. Questo la porterà ovviamente ad esprimere tutto ciò che è, tutto ciò che sente, solo nel palcoscenico, per questo, e questo la rende famosissima in tutto il mondo, a partire da Parigi. La prima città, diciamo, la vede ospite, e vede accrescere il suo successo, perché comunque lei cerca di scappare dalla sua Milano, una Milano che comunque le ricorda il marito non voluto, una Milano che non si sente ancora di affrontare. Tornerà però, tornerà perché? Soprattutto per Clelia, la figlia che comunque è nata da un uomo non voluto, ma comunque una figlia che invece ama, non si sente più di lasciarla sola in mano a quel marito che comunque è inesistente, e quindi torna nella sua città, la sua città che comunque la acclamerà, la sua città che la vorrà sentire anch'essa cantare, fino ad arrivare a dover comunque partecipare a un'opera di Vincenzo Bellini, per l'appunto. E quindi ci sarà un momento in cui finalmente ci sarà un incontro, un nuovo incontro dopo quel piccolo momento di quando erano appunto giovani. Quello che però accade qui, qual è? Cos'è? Che comunque è una giuditta ancora molto con... che non riesce a decidersi, non riesce a prendere in mano appunto la sua vita e prendersi la libertà che sogna, e quindi sarà veramente, ci saranno dei momenti di veramente sofferenza e tormento da parte di entrambi, perché ovviamente comunque Vincenzo proverà ad avvicinarsi e lei sarà sempre quella che si ritrae, ci sarà però un momento fugace in cui tutto sembra cambiare, poi però vi lascio ovviamente scoprire se non conoscete la sua storia, quello che accadrà poi successivamente. Quindi diciamo che il tutto il libro è veramente una continua emozione, per lo più di estrema sofferenza, di estremo turbamento interiore di questa donna, una donna che comunque quando va sul palco esprime veramente tutta se stessa. Quindi è un testo davvero profondo che vi consiglio di leggere, se vi piacciono i romans storici poi ancora di più. Come vi dicevo comunque c'è anche lo sfondo dell'Italia che vuole cambiare, è la prima nascita delle varie associazioni come possono essere appunto la Giovene Italia, con a Capomazzini, insomma un momento di grande cambiamento in tutti i sensi. Quindi io vi consiglio questo libro che appunto è del primo amore di Manuel Scarella e niente, vi aspetto nel blog se volete leggere la recensione completa e vi aspetto al prossimo video. Un bacio!